salve a tutti cari amici di youtube benvenuti in questo nuovo video come potete vedere oggi vi faccio ascoltare una una canzone che fa parte del cofanetto di pù goodbye è un cofanetto con all'interno 3 e le pì colorate allora vi faccio ascoltare un brano adesso che si chiama non si può rifare il mondo in due se vi piace questa canzone mettete mi piace buona ascolta no 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 Dio 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 Grazie per la visione!